Se tu mi fai parlare un attimo, allora io ieri sera devo telefonare. Facciamo una cosa, guarda. Io non posso sentire queste stupide... Dammi toccare, faccia una stacca. Calma! Non hai chiamato? Il mio tesoro deve essere a cuore. No, no, buca! Che cosa devo cercare di parlare? Ma chi lo ha detto? Ma che cosa? Quello chi è? Chi è quello là? Oh, oh, quello chi è? Dimmi subito quello che... Parla!